Dopo il piedista c'è lo sportellista, lo sportellista di destra. Qua è una scelta proprio all'acquisto della vettura perché sarà sempre di destra. Lo sportellista, dimentichiarista, avvertista. E io sono un po' piedino, non glielo chiudo, ci faccio il video. Secondo te sto male? Slaus. Lo sportellista. Nuova catena. Spona pure. E sta a San Garosino lo sportellista. E' sportellato, non è reato. E' Nani Ventri. Ma chi te vanno? Le 25 di luglio. I contenuti possono, ah, perché l'ha stato lavorando e giustamente il cittadino si ingarosisce. Cioè quelli stanno lavorando a 40 gradi con la puzza della buonezza e il cittadino si ingarosisce e suona. Perché devi fare un minuto di attesa. Ma al secondo te sto male? Rispetto. Massimo rispetto. Anche per lo sportellista. Nani Ventri, nel secondo te sto male, a fare l'antagonista del piedista. Viva la vita, tutta la vita, lo sportellista. Bella per te. Con l'invendibile, eh. Questa è aziendale. Anche snazzicata sulla destra sempre. Perché lo sportellista ha a destra snazzica. Stavus.